Ma perché? Dice che lei si rende conto Credo da Fazio Vogliono riaprire le case chiuse Come se fosse chissà quale sca Vogliono riaprire le case chiuse Cara Bodrini ma barcalo il confine Dato che ti senti così Cosmopolita, aperta Ma barca il cazzo di confine C'è la Svizzera, c'è l'Austria C'è la Slovenia Ma non barcalo per andarsene Sto dicendo barcasse il confine E quello non lo vuole Ora c'è chi dice addirittura Di riaprire le case chiuse Fazio ma lei si rende conto? Che cosa vuol dire? Invece di occuparsi Di creare occupazione buona Per le nostre ragazze Sembra che sia stata accantonata però No, accantonata Non mi pare che sia stata accantonata Ancora c'è chi la rilancia Continuamente nel dibattito pubblico Per cui per far pagare le tasse alle donne Ma sì, certo Gente che per adesso guadagna soldi in nero Uno dovrebbe essere al nero Contrario al nero Lei la Bodrini di solito Contrario agli avasori eccetera Sono degli evasori Dunque far pagare le tasse agli evasori Cioè vedi che gli argomenti Sono anche sbagliati Poi dice anche Fate pagare le tasse A chi va con le prostituite Non ho capito bene questa cosa Sentiamo Che si facessero pagare le tasse A coloro che vanno Con queste ragazze Che spesso sono pure minorenni Altro che alle donne Le donne non lo scelgono Lo scelgono quasi mai Non ho capito bene Lei la punta su far pagare le tasse A chi va con le prostituite Che cazzo vuol dire Far pagare le tasse A chi va con le prostituite Queste pagheranno no Per il lavoro che fanno Che vuol dire Se uno va con la prostituta Paga le tasse Ma vedi che è tutto sbagliato Pagare È tutto sbagliato Fabio D'Ariere È tutto sbagliato Fabio D'Ariere Questa trasmissione Pagare le tasse Avello Ciao